Sindaco, tutte le giornate di un sindaco sono impegnative, quest'oggi c'è stato anche una giunta importante in un luogo importante per Fano? Sì, le giornate di un sindaco sono sempre giornate ricche e anche con imprevisti molto spesso. Oggi abbiamo iniziato la giornata con una giunta fatta fuori sede. Per la prima volta ho voluto convocare una giunta non nella sede municipale ma a Ponte Sasso per due significati. Uno perché è giusto che la giunta anche così simbolicamente esca dal palazzo comunale perché bisogna essere sempre il più possibile vicino ai cittadini. In più l'abbiamo fatto in una struttura che è comunque pubblica, gestita molto bene da un'associazione al centro sociale di Ponte Sasso. Un momento costruttivo per tutti, interessante ma soprattutto anche di relazioni perché non dobbiamo dimenticare che chi fa il sindaco, l'amministratore, rappresenta i cittadini e deve mantenere sempre un rapporto costante con loro. Ecco, una fatica divisa in due quest'oggi grazie a un'iniziativa di cui lei è stato fortemente promotore. Sì, questa iniziativa di Sindaco per un giorno è una bella occasione perché si dà la possibilità a un cittadino fanese di accompagnare il sindaco nell'attività della giornata. Oggi il sindaco per un giorno è un giovane studente, questo mi fa piacere perché significa anche aprirsi. E poi i giovani portano sempre l'infa nuova, sono uno stimolo, quindi nell'arco della giornata può suggerirmi anche qualche idea per la città. Devo dire che l'ho trovato molto attento e anche competente, anche strada facendo mi portava le sue considerazioni, questo mi fa piacere e poi è bello quando un giovane si interessa della propria città. Allora, una giornata a braccetto col sindaco, impressioni a caldo di queste prime ore? La vita di un sindaco, la giornata di un sindaco è molto piena e soprattutto che passa da argomenti molto diversi. Dal mio punto di vista è un'esperienza molto formativa, molto bella, molto interessante e che chiaramente per un giovane dà la possibilità di vedere come opera il primo cittadino. Allora, qualche consiglio glielo ha dato? Ho provato a esprimermi più sulla questione Porto e Porto con le sue problematiche e anche facendolo passare come punto di forza.